Amici del Bardo, eccomi di nuovo qui con tutte le ultime news dal mondo del Pro Wrestling. Iniziamo da Chris Jericho, che ospite di Busted Open Radio ha detto di non avere novità sulla situazione riguardante Neville, ma ha speso belle parole per l'atleta che presto potrebbe lasciare la WWE in maniera definitiva. Mi ricorda molto Chris Benoit, ha detto il canadese, perché è sempre incisivo, ha una preparazione solida, combatte con grazia e con la giusta durezza. È un ragazzo innovativo e intelligente, e penso che la WWE non gli abbia dato l'occasione giusta per mettersi in mostra. La categoria dei pesi leggeri va bene, ma siamo onesti, è quel che è. Ritengo che uno come Neville abbia le potenzialità per ottenere di meglio, sia come collocazione che come personaggio proposto. Queste le parole di Chris Jericho, siete d'accordo? Oppure no? Qua sotto dita Roventi nei commenti, voglio leggere le vostre opinioni, mi raccomando, motivatele. Andando avanti e ricollegandoci a questa news, bisogna ammettere che nelle ultime ore gira voce che altri lottatori WWE stiano vagliando la possibilità di uscire dalla federazione, perché è delusi o dall'immobilismo gerarchico nel ranking interno o dai compensi percepiti a fronte degli sforzi profusi. Non è un mistero che col network, con la crisi economica, con la ridiscussione dei contratti, con l'arrivo di tanti giovani talenti ad NXT, ci sia una larga fetta di atleti, di wrestler che ritiene, insomma, di essere poco valorizzata dal punto di vista economico. E questo era anche uno dei punti, vi ricorderete, dalla grande polemica sollevata qualche anno fa da CM Punk. Ad ogni modo, stiamo sul pezzo, sull'attualità. Di certo non c'è nulla, ok? Non c'è una lista di nomi, di gente che se ne vuole andare. E se ci fosse, beh, badate bene, non sono i nomi più importanti, più solidi, più affermati. Sicuramente sono i nomi che stanno più o meno a metà, metà bassa classifica, intendo di popolarità e di importanza all'interno della WWE. Tuttavia, è certo, almeno questo l'hanno confermato diverse fonti, che ci sia, che si sta informando. C'è chi ha chiesto, ad esempio, a chi se ne è andato di recente, come Cody Rhodes, come sia la vita fuori dall'ombrello WWE e abbia ricevuto delle informazioni allettanti, sia sugli ingaggi e sia sullo stile di vita, ovviamente, più rilassato. In questa scia si inserisce il rumor che vede protagonista Naya Jax, adetta di alcuni siti americani, pronta a chiudere la porta e ad andarsene. Per ora di certo si sa solo che la WWE ha garantito a Naya un periodo di assenza dovuto a motivi personali, non meglio identificati. Come sempre, vi chiedo di prendere questo tipo di informazioni con le dovute precauzioni, visto che della WWE non vi è alcun comunicato ufficiale. Se le cose, oltretutto, sono cambiate dal momento in cui ho registrato il video a quello in cui è stato pubblicato, beh, fate voi gli update qua sotto nei commenti. Datemi una mano. Chiudiamo con un paio di notizie veloci, ma intriganti, perché Bribella ha dichiarato che intende tornare in WWE nel 2018 e per questo riprenderà gli allenamenti a brevissimo, ad inizio novembre, nella speranza di essere pronta per il mese di gennaio. Bri ha anche rivelato che verso la fine del 2018 lei e Daniel Bryan proveranno a concepire un secondo figlio. Sam Rae è ferma per infortunio dall'agosto del 2016, ma stando ad alcuni suoi recenti tweet, sembra possibile un rientro, a breve, nei programmi della WWE. Staremo a vedere. Chiudiamo con Bray Wyatt, Bo Dallas e Jojo Hofferman, che non sono apparsi fisicamente nel ring nelle ultime settimane per via di un attacco di meningite virale. Il problema di solito si risolve entro 10-15 giorni, dunque a breve dovrebbero trovare di nuovo collocazione negli show della WWE. Stando ad altri siti americani, ci sarebbe un elenco supplementare di start-up WWE che avrebbero contratto lo stesso problema. E tutto ciò, sempre riferendoci a queste fonti, ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della card di TLC, che a parte un paio di grossi match sembra avere qualche carenza qua e là. Va bene, vi ho riferito tutto, ora mi fiondo in cabina di doppiaggio perché mi aspettano un bel po' di telecronache. Grazie per l'ascolto e ci vediamo presto, sempre solo qui sul canale del Bardo! Uhuuu! Uhuuu!